due anziani vanno dal dottore buongiorno dottore cosa succede ditemi bene dottore ci chiamano sempre a casa è una società che ci vuole vendere la fibra quindi quindi ci deve consigliare lei dottore che facciamo la prendiamo la fibra beh non penso che nel caso vostro vi possa interessare immagino vedete la televisione sì certo i canali soliti ecco quindi probabilmente la fibra non vi serve ma perché dice che stiamo troppo davanti alla televisione pensa che dobbiamo muoverci di più scusi non ho capito il vostro problema dottore questa fibra ci serve o non ci serve ma perché lo chiedete a me non lo so ma non penso alla vostra età ecco appunto dottore infatti a questo che continua a chiamare gli abbiamo detto che ci troviamo bene con quello che ci fa prendere lei cosa intendete le pasticche per andare al bagno dottore quelle già funzionano bene quindi siamo d'accordo che non ci serve prendere anche la fibra le pasticche per andare al bagno dottore